Parte 3. Luci spente. Intorno al gelso. Non ancora tre. Lascia sacra. Il campione mondiale di vomito. Fare una brutta fine. Inizia con un passo. 12. Sono all'inferno! Pensò sorella Cripp isterica. Sono morta! Sono all'inferno! E sto bruciando con i peccatori! Un'altra ondata di dolore crudo la sommerse. Gesù, aiutami! Tentò di urlare, ma riuscì a emettere solo un gemito rauco e animalesco. Si inghiozzò, stringendo i denti fino a quando il dolore non si fu di nuovo calmato. Giaceva nell'oscurità completa e pensò di riuscire a sentire le urla dei peccatori, che bruciavano nelle profondità distanti dell'inferno. Gemiti deboli e orribili, e grida, che la raggiungevano nell'aria come gli odori di zolfo, vapore e carne bruciata, che le avevano fatto riprendere i sensi. Gesù caro, salvami dall'inferno! implorò. Non lasciare che bruci in eterno! Il dolore feroce ritornò, divorandola. Si contorse per mettersi in posizione fetale e dell'acqua le finì in faccia e nel naso. Sputacchiò e gridò contemporaneamente e inalò un respiro di aria acre e fumosa. Acqua? Pensò. Acqua? Sono sdraiata nell'acqua. E i ricordi iniziarono a brillare nella sua mente febbrile, come braci sul fondo di una griglia. Si sedette. Il suo corpo era pesante e gonfio, e quando sollevò una mano sul volto, le vesciche sulle sue guance e sulla fronte scoppiarono, emettendo fluidi. Non sono all'inferno, disse con voce stridula. Non sono morta, ancora. Adesso ricordava dove si trovava, ma non riusciva a capire cosa fosse accaduto o da dove fosse arrivato il fuoco. Non sono morta, ripetì con voce più alta. Sentì l'eco nella galleria e gridò. Non sono morta! Con le labbra screpolate e coperte di vesciche. Tuttavia, un'agonia di dolore continuava ad attraversarla. Un istante si sentiva bruciare e quello successivo gelare. Era stanca, molto stanca, e voleva sdraiarsi di nuovo nell'acqua per dormire. Ma aveva paura che se l'avesse fatto non si sarebbe più svegliata. Allungò una mano nel buio, cercando la sua borsa di tela, e fu nel panico per qualche secondo quando non riuscì a trovarla. Poi le sue mani toccarono la tela carbonizzata e bagnata e tirò a sé la borsa, stringendola come fosse un bambino. Sorella Crip tentò di mettersi in piedi. Le sue gambe cedettero quasi all'istante, per cui si sedette nell'acqua e sopportò il dolore, tentando di raccogliere le forze. Le vesciche sul suo volto si stavano increspando di nuovo, tendendolo come una maschera. Sollevando la mano, si tastò la fronte e poi i capelli. Il cappellino era sparito e i suoi capelli sembravano l'erba ispida di un prato che aveva passato un'intera estate senza una sola goccia di pioggia. «Sono calva per il fuoco», pensò, e dalla gola le uscì qualcosa a metà tra una risatina e un singhiozzo. Altre vesciche le scoppiarono sulla testa e tolse rapidamente la mano perché non voleva sapere altro. Tentò di nuovo di alzarsi e questa volta riuscì a mettersi completamente in piedi. Toccò il bordo del pavimento della galleria, appena al di sopra del suo ventre prominente. Avrebbe dovuto tirarsi fuori con la forza. Le spalle pulsavano ancora per lo sforzo di strappare la grata, ma quel dolore era niente a paragone di quello che soffriva per la pelle coperta di vesciche. Sorella Crip gettò fuori la borsa di tela. Presto o tardi avrebbe dovuto costringersi a uscire per recuperarla. Poggiò i palmi sul cemento e si tese per spingersi verso l'alto, ma la sua forza di volontà evaporò e restò lì, pensando che tra uno o due anni un tecnico della manutenzione sarebbe sceso laggiù e avrebbe scoperto uno scheletro dove una volta si era trovata una donna viva. Spinse verso l'alto. I muscoli ustionati delle sue spalle urlarono di dolore e un gomito minacciò di cedere, ma quando iniziò a ricadere all'indietro, nella buca, sollevò un ginocchio e lo passò oltre il bordo, poi sollevò l'altro. Delle vesciche scoppiarono sulle sue braccia e sulle gambe, con dei brevi suoni umidi. Si arrampicò oltre il bordo come un granchio e restò sdraiata sulla pancia sul pavimento della galleria, stordita e respirando pesantemente con le mani che di nuovo la borsa. Alzati, pensò. Muoviti secchio di lardo, oppure morirai quaggiù. Si alzò, tenendo la borsa protettivamente davanti a sé, e iniziò ad avanzare barcollando nell'oscurità. Le sue gambe erano rigide come tronchi di legno e diverse volte cadde, inciampando su macerie o cavi strappati. Ma si fermava solo il tempo sufficiente per riprendere fiato e respingere il dolore, e poi si rimetteva in piedi e proseguiva. Si scontrò con una scala e ci si arrampicò. Ma il condotto era bloccato da cavi, pezzi di cemento e tubi. Tornò nella galleria e continuò a cercare una via per uscire. In alcuni punti l'aria era calda e rarefatta, e lei fece respiri brevi per evitare di perdere i sensi. Avanzò a tentoni lungo la galleria. Trovò la strada bloccata da macerie crollate e dovette tornare sui suoi passi. Trovò altre scale che salivano in condotte bloccate o coperchi di tombini che rifiutavano di essere spostati. La sua mente sbatteva avanti e indietro come un animale in gabbia. Un passo alla volta, disse a se stessa. Un passo e poi il prossimo. Ti porta dove stai andando. Delle vesciche si gonfiarono e sgonfiarono, su volto, braccia e gambe. Si fermò e si sedette per riposarsi un po', con i polmoni che fischiavano nell'aria pesante. Non si sentivano rumori di treni della metropolitana, auto o peccatori in fiamme. Là sopra è accaduto qualcosa di terribile, pensò. Non l'estasi, non la seconda venuta. Qualcosa di terribile. Sorella Krip si costrinse a proseguire. Un passo per volta, un passo e poi il prossimo. Trovò un'altra scala e guardò in alto. A circa sei metri più in alto, in cima al condotto, c'era una mezzaluna di luce torbida. Si arrampicò fino a trovarsi abbastanza vicina per toccare il coperchio del tombino, spostato di cinque centimetri dal suo incastro, dalla stessa onda d'urto che aveva fatto vibrare la galleria. Riuscì a infilare le dita di una mano tra il ferro e l'asfalto e spinse di lato il coperchio. La luce era del colore del sangue secco ed era nebulosa, come se fosse filtrata da strati di garza spessa. Dovette comunque stringere gli occhi fino a quando non si furono di nuovo abituati alla luce. Stava guardando verso il cielo, ma era come non lo aveva mai visto. Sporche nuvole marroni vorticavano sopra Manhattan e da esse uscivano crepitando lampi di luce blu. Un vento caldo e amaro la colpì in volto, e la sua forza la strappò quasi dalla scala. A distanza si sentiva il rombo del tuono, ma un tipo di tuono diverso da quelli che aveva sentito in passato. Questo sembrava un martello da fabbro che batteva il ferro. Il vento ululava mentre si infilava nel tombino, spingendola all'indietro, ma lei tirò se stessa e la borsa su per gli ultimi due pioli della scala, e strisciò di nuovo nel mondo esterno. Il vento le soffiò in faccia una tempesta di sabbia, e per qualche secondo ne fu accecata. Quando la vista le si schiarì di nuovo, vide che era uscita dalla galleria in qualcosa che sembrava una discarica. Intorno a lei c'erano telai schiacciati di auto, taxi e furgoni, alcuni di essi fusi insieme, formando strane sculture di metallo. Gli pneumatici di alcuni veicoli stavano ancora fumando, mentre altri si erano liquefatti in pozzanghere nere. Nell'asfalto si erano aperte ampie crepe, alcune di esse larghe un metro o due. Da molte fuoriuscivano colonne di vapore o acqua, come geyser in eruzione. Si guardò intorno, confusa e senza capire, con gli occhi socchiusi a causa del vento sabbioso. In alcuni punti la terra era collassata, e in altri c'erano montagne di macerie, Everest in miniatura di metallo, pietra e vetro. In mezzo a essi il vento si bilava e serpeggiava, vorticava e si alzava intorno ai frammenti di edifici, molti dei quali scossi fino a essere ridotti a scheletri che a loro volta erano contorti e piegati, come stecche di liquirizia. Cortina di fumo denso, proveniente da edifici in fiamme e monti di macerie, correvano davanti al vento impetuoso e dal cuore nero di nuvole rotolanti e immense, dei lampi colpivano il terreno. Non riusciva a vedere il sole, non riusciva nemmeno a dire dove si trovasse in quel cielo turbolento. Cercò l'Empire State Building, ma non c'erano più grattacieli. Tutti gli edifici che riusciva a vedere erano stati rasi al suolo, anche se non poteva dire se l'Empire State Building fosse ancora in piedi, a causa del fumo e della polvere. Quella non era più Manhattan, ma una discarica devastata di montagne di macerie e rovine piene di fumo. Il giudizio di Dio, pensò. Dio ha abbattuto una città malvagia, ha mandato tutti i peccatori a bruciare all'inferno per sempre. Dentro di lei scoppiò una risata folle, e quando sollevò il volto verso le nuvole sporche e i fluidi di vesciche scoppiate le scesero lungo le guance. Una lancia di luce colpì la struttura esposta di un edificio vicino, e delle scintille fecero una danza folle nell'aria. Dietro la mole di un'enorme montagna di macerie, sorella Krip poteva vedere l'imbuto di un tornado a distanza, e un altro che si contorceva sulla destra. In alto, in mezzo alle nuvole, degli oggetti in fiamme giravano come palle rosse nelle mani di un giocoliere. Tutto sparito, tutto distrutto, pensò. La fine del mondo. Si ha lodato Dio, si ha lodato il benedetto Gesù. La fine del mondo. E tutti i peccatori bruciavano nel... Si mise le mani sulle orecchie e gridò. Qualcosa nel suo cervello andò in frantumi, come lo specchio di una casa di divertimenti che esisteva solo per riflettere un mondo distorto. E quando i frammenti dello specchio caddero, dietro di esso furono rivelate altre immagini. Lei stessa, una donna più giovane e attraente, che spingeva un passeggino dentro un centro commerciale. Una casa di periferia in mattoni con un piccolo giardino verde e una station wagon sul vialetto. Una città con una strada principale e una statua nella piazza. Volti, alcuni dei quali scuri e indistinti, altri appena oltre la soglia della memoria. E poi la luce blu lampeggiante e la pioggia e il demone con l'impermeabile giallo che allungava le mani dicendo «La dia a me, signora. Va tutto bene. Me la dia adesso». «Tutto scomparso, distrutto, giudizio di Dio. Si allode a Gesù». «Me la dia adesso». «No», pensò. «No, tutto sparito, tutto distrutto, tutti i peccatori che bruciano l'inferno. No, no, no!» E poi aprì la bocca e urlò «Perché tutto era sparito e distrutto nel fuoco e nella rovina». E in quell'istante si rese conto che nessun dio della creazione avrebbe distrutto il suo capolavoro con un'esplosione di fiamme, come un bambino petulante. Questo non era il giorno del giudizio, l'estasi o la seconda venuta. Questo non aveva nulla a che fare con Dio. Questa è la distruzione totale e malvagia, senza senso, scopo o saggezza. Per la prima volta da quando era strisciata fuori dal tombino, sorella Crip si guardò le mani e le braccia coperte di vesciche e gli stracci laceri dei suoi abiti. La sua pelle era chiazzata di furiose ostioni rosse e le vesciche erano gonfie di fluido giallo. La sua borsa era a stento tenuta insieme da strisce di tela e i suoi averi cadevano attraverso fori bruciati. E poi intorno a lei, nella coltre di polvere e fumo, vide altre cose che all'inizio la sua mente non le aveva permesso di vedere, cose schiacciate e carbonizzate, che potevano solo lontanamente essere riconosciute come resti umani. Una pila di questi giaceva quasi ai suoi piedi, come se fosse stata ammucchiata lì da qualcuno che aveva svuotato un secchio per il carbone. I corpi erano disseminati sulla strada. Giacevano metà dentro o fuori dalle auto e dai taxi in frantumi. Qui ce n'era uno avvolto intorno ai resti di una bicicletta. Lì un altro, con i denti che risaltavano sorprendentemente bianchi nel volto increspato e privo di lineamenti. Giacevano a centinaia intorno a lei, con le ossa fuse in forme di un orrore surrealistico. Esplose un fulmine e il vento gemette con la voce lugubre di una Banshee intorno alle orecchie di sorella Crip. Si mise a correre. Il vento la sferzava in faccia, accecandola con il fumo, con la polvere e con le ceneri. Abbassò la testa arrampicandosi sul fianco di una montagna di macerie e si rese conto che aveva lasciato indietro la sua borsa, ma non sopportava di tornare in quella valle di morti. Inciampò su delle macerie, scatenando una valanga di spazzatura che le cadde intorno alle gambe. Televisori e stereo frantumati, ammassi fusi di computer, stereo a batteria, radio, stracci bruciati di abiti da uomo in seta e abiti da donna di stilisti. Pezzi rotti di mobili raffinati, libri carbonizzati, antica argenteria ridotta a blocchi di metallo e ovunque c'erano altri veicoli distrutti e corpi sepolti nei relitti, centinaia di corpi e pezzi di corpi, braccia e gambe che uscivano dalle macerie e rigide come quelle dei manichini dei grandi magazzini. Raggiunse la cima della montagna, dove il vento caldo era così feroce che dovette cadere in ginocchio per non essere buttata giù. Guardandosi intorno in tutte le direzioni, vide la completa estensione del disastro. A nord stavano bruciando i pochi alberi che restavano di Central Park e i fuochi si estendevano lungo tutta quella che era stata l'ottava strada, brillando come rubini rosso sangue dietro la tenda di fumo. A est non c'era segno del Rockefeller Center o della Grand Central Station. Solo strutture fatte a pezzi che si elevavano come denti marci da una gengiva malata. A sud sembrava che anche l'Empire State Building fosse scomparso e l'imbuto di un tornado danzava nei pressi di Wall Street. A ovest, creste di macerie arrivavano fino al fiume Hudson. Il panorama di distruzione era sia il culmine dell'orrore, sia un suo ottundimento. Perché la sua mente raggiunse il limite della sua abilità di accettare e processare lo shock. Iniziò a sputare fuori ricordi di cartoni animati e commedie che aveva visto da bambina, i pronipoti, Bracobaldo, Supertopo e i tre marmittoni. Si accovacciò in cima alla montagna, nella morsa di un vento urlante, e guardò le rovine senza parlare, mentre un maligno sorriso fisso le allargava la bocca e un solo pensiero sano riuscì a passare. «Oh Gesù mio, cos'è successo al posto magico?» E la risposta era tutto sparito, tutto distrutto. «Alzati», disse a se stessa, anche se il vento spazzò via la sua voce. «Alzati! Pensi che puoi restare qui! Non puoi restare qui! Alzati e fai un passo per volta! Un passo e quello successivo ti porta dove stai andando!» Ma passò molto tempo prima che riuscisse a muoversi di nuovo, e scese barcollando dall'altro lato della montagna di macerie come una vecchia che borbottava tra se esse. Non sapeva dove stava andando, né le importava particolarmente. L'intensità dei fulmini aumentò e il tuono scosse il suolo. Dalle nuvole iniziò a cadere una pioggiarella nera dall'aspetto cattivo, volando come aghi nel vento ululante. Sorella Cripp avanzò da una montagna di rovine alla successiva. Credette di sentire una donna gridare in lontananza. E anche lei grido, ma non ebbe risposta. La pioggia cadde con più intensità e il vento gliela soffiava in faccia come uno schiaffo. E poi, non seppe quanto tempo era passato ancora, scese da una cresta di rovine e si bloccò accanto ai resti di un taxi giallo. Lì vicino c'era un cartello stradale, piegato quasi in un nodo, e c'era scritto «Quarantaduesima». Di tutti gli edifici lungo la strada, uno solo era ancora in piedi. L'insegna sul cinema Empire State stava ancora lampeggiando, pubblicizzando The Face of Death Part 4 e Mondo Bizzarro. Su entrambi i lati dell'edificio del cinema le strutture erano state ridotte a gusci vuoti, ma il cinema stesso non aveva nemmeno segni di bruciature. Ricordò di essere passata davanti a quel cinema la notte prima e la spinta brutale che l'aveva gettata in strada. Del fumo passò tra lei e il cinema, e si aspettò che l'edificio fosse sparito come un miraggio l'istante dopo. Ma quando il fumo passò oltre, il cinema era ancora lì, e l'insegna stava ancora lampeggiando allegramente. «Fattene!» disse a se stessa. «Fattene di corsa!» Ma fece un passo verso il cinema, e quello successivo la portò dove stava andando. Si fermò davanti alle porte del cinema, e sentì odore di popcorn imburrati uscire dall'interno. «No!» pensò. «Non è possibile!» Ma non era possibile nemmeno che la città di New York fosse trasformata in una desolazione percorsa dai tornado in una manciata di ore. Fissando quelle porte del cinema, sorella Crip seppe che le regole di quel mondo erano state improvvisamente e drasticamente cambiate, da una forza che non poteva nemmeno iniziare a comprendere. «Sono pazza!» disse a se stessa. Ma il cinema era reale, come anche l'odore di popcorn imburrati. Sbirciò nella biglietteria, ma era vuota. Poi si fece forza, toccò il crocifisso e la collana di graffette che le pendeva intorno al collo, e attraversò le porte. Non c'era nessuno dietro al bancone del chiosco. Ma sorella Crip sentiva il film proiettato nella sala al di là di una tenda rossa sbiadita. Si udì il suono stridente di un incidente d'auto e poi una voce narrante che diceva «E qui davanti ai vostri occhi c'è il risultato di uno scontro frontale a cento chilometri orari». Sorella Crip si allungò oltre il bancone, afferrò due barrette di cioccolato dall'espositore, e stava per mangiarne una, quando sentì il ringhio di un animale. Il suono aumentò, raggiungendo il registro di una risata umana. Ma in essa, sorella Crip sentì lo stridio di ruote su un'autostrada bagnata dalla pioggia e l'urlo acuto e straziante di un bambino. «Mamma!» Si mise le mani sulle orecchie finché l'urlo del bambino non si spense. E poi restò ferma, tremante, fino a quando non ne scomparve anche il ricordo. Anche la risata era sparita, ma chiunque l'avesse fatta era ancora seduto all'interno a guardare il film, in mezzo a una città distrutta. Si infilò in bocca mezza barretta di cioccolato, la masticò e la deglutì. Dietro alla tenda rossa, il narratore stava parlando di stupri e omicidi con freddo distacco. La tenda la attirava, mangiò l'altra metà della barretta e si lecò le dita. Pensò che se quella terribile risata fosse ricomparsa, avrebbe potuto perdere la testa, ma doveva vedere chi l'aveva emessa. Si avvicinò alla tenda e la scostò lentamente, molto lentamente. Sullo schermo c'era il volto livido e morto di una giovane donna, ma una vista del genere non aveva più il potere di scioccare sorella Krip. Poteva vedere i contorni di una testa, qualcuno seduto in prima fila con la faccia rivolta in alto verso lo schermo. Il resto dei posti era vuoto. Sorella Krip fissò quella testa. Non riusciva a vederne il volto e non voleva, perché chiunque o qualunque cosa fosse, di certo non poteva essere umano. La testa ruotò di colpo verso di lei. Sorella Krip arretrò. Le sue gambe volevano scappare, ma non glielo permise. La figura nella prima fila stava fissando lei, mentre il film continuava a mostrare riprese ravvicinate di gente sui tavoli dei medici legali. Poi la figura si alzò dalla poltrona e lei sentì scricchiolare del popcorn sul pavimento, sotto le sue scarpe. «Corri!» gridò dentro se stessa. «Esci!» ma tenne duro e la figura si fermò prima che il suo volto fosse rivelato dalla luce del chiosco. «Sei tutta bruciata!» Era la voce morbida e piacevole di un giovane uomo. Era magro e alto, un metro e novanta o novantacinque, e indossava un paio di pantaloni verde scuro e una maglietta gialla. Ai piedi aveva anfibi lucidati. «Credo che a quest'ora sia finita là fuori, vero?» «Tutto sparito», mormorò lei. «Tutto distrutto». Sentì un freddo gelito. La stessa cosa che l'era accaduta la notte prima davanti al cinema, che poi scomparve. Riusciva a vedere una debolissima traccia di lineamenti sul volto dell'uomo e pensò di vederlo sorridere. Ma era un sorriso terribile. La sua bocca non sembrava essere esattamente dove doveva. «Credo che siano morti tutti», gli disse. «Non tutti», la corresse lui. «Tu non sei morta, no? E credo che ce ne siano anche altri ancora vivi là fuori. Si nascondono da qualche parte, probabilmente, in attesa di morire. Non ci vorrà molto comunque, nemmeno per te». «Io non sono ancora morta», disse lei. «È come se lo fossi». Il petto dell'uomo si espanse, mentre faceva un respiro profondo. «Senti l'odore dell'aria». «Non è dolce?» Sorella Crippi iniziò a fare un passo indietro. L'uomo disse, quasi con gentilezza, «No». E lei si fermò, come se la cosa più importante del mondo, l'unica cosa importante fosse ubbidire. «La mia scena migliore sta arrivando». Indicò lo schermo, dove delle fiamme fuoriuscivano da un edificio e corpi spezzati giacevano su delle barelle. «Quello sono io, in piedi vicino all'auto». «Bè, non ho detto che sarebbe stata una scena lunga». La sua attenzione tornò su di lei. «Oh», disse con dolcezza, «mi piace la tua collana». La sua mano pallida, con le dita lunghe e sottili, si diresse verso la gola della donna. Voleva voltarsi, perché non poteva sopportare di essere toccata da quella mano, ma fu pietrificata dalla sua voce, che riecheggiava avanti e indietro nella sua mente. Trasalì quando le dita fredde toccarono il crocifisso. L'uomo lo tirò, ma sia il crocifisso che la catena di graffette erano saldati alla sua pelle. «È saldata», disse l'uomo. «Possiamo sistemarlo». Con una rapida torsione del polso, strappò via crocifisso e catena, portando con sé la pelle di sorella Crip. Il dolore la attraversò come una scossa elettrica, al tempo stesso interrompendo l'eco dell'ordine dell'uomo e schiarendole la mente. Le lacrime bruciavano, scorrendo sulle sue guance. L'uomo tenne il palmo rivolto verso l'alto, con il crocifisso e la catena che pendevano davanti al volto della donna. Iniziò a cantare con la voce di un bambino. «Ecco che giriamo intorno al gelso, al gelso, al gelso». Il palmo prese fuoco e le fiamme risalirono lungo le sue dita. Quando la mano dell'uomo diventò un guanto di fuoco, crocifisso e catena iniziarono a fondersi e a gocciolare sul pavimento. «Ecco che giriamo intorno al gelso, così presto alla mattina». Sorella Crip guardò il suo volto. Alla luce della mano in fiamme poteva vedere le ossa che si spostavano, le guance e le labbra che si fondevano, gli occhi di diversi colori che comparivano dove non c'erano orbite. L'ultima goccia di metallo fuso cadde a terra. Sul mento dell'uomo si aprì una bocca, simile a una ferita bordata di rosso. La bocca ghignò. «Via le luci», sussurrò. Il film si fermò e il fotogramma sfumò sullo schermo. La tenda rossa, a cui sorella Crip si stava ancora tenendo, prese fuoco e lei urlò e tirò via le mani. Il cinema fu attraversato da un'ondata di caldo tremendo e dalle pareti grondavano fiamme. «Tic toc, tic toc», continuò la voce dell'uomo con un allegro ritmo da filastrocca. «Niente può fermare l'orologio». Il soffitto si incendiò e cedette. Sorella Crip si riparò la testa con le braccia e barcollò all'indietro attraverso le tende mentre lui avanzava verso di lei. Dal bancone del chiosco scendevano fiotti di cioccolato. Lei corse verso la porta e la cosa alle sue spalle ragliò «Corri, corri, maiale!». Aveva fatto tre passi fuori dalla porta prima che quella diventasse una lastra di fuoco e poi corse all'impazzata tra le rovine della quarantaduesima strada. Quando osò guardare indietro, vide l'intero cinema sputare fiamme e il tetto dell'edificio implose, come se fosse stato schiacciato da un pugno brutale. Si lanciò dietro un blocco di pietra, quando una tempesta di vetro e mattoni le volò intorno. Fu tutto finito dopo qualche secondo, ma sorella Crip restò rannicchiata, tremando di terrore, fino a quando tutti i mattoni finirono di cadere. Sbirciò fuori dal suo rifugio. Adesso le rovine del cinema erano indistinguibili da qualsiasi altra pila di ceneri. Il cinema era sparito, e così fortunatamente anche la cosa con la mano fiammeggiante. Toccò il cerchio di carne viva che le circondava la gola e le sue dita si ritrassero coperte di sangue. Le ci volle qualche altro istante perché realizzasse che il crocifisso e la catena erano davvero spariti. Non ricordava da dove le fosse arrivato, ma era qualcosa di cui era stata orgogliosa. Aveva anche pensato che la proteggesse, e adesso si sentiva nuda e indifesa. Sapeva che in quel cinema da due soldi aveva guardato nel volto del male. La pioggia nera cadeva più intensamente. Sorella Crip si rannicchiò, con la mano premuta sulla gola sanguinante. Chiuse gli occhi e pregò di morire. Si rese conto che, dopo tutto, Gesù Cristo non stava arrivando con il suo disco volante. Il giorno del giudizio aveva distrutto gli innocenti, con le stesse fiamme che avevano ucciso i colpevoli, e l'estasi era il sogno di un folle. Un singhiozzo d'angoscia alle proruppe dalla gola. Pregò, «Ti prego, Gesù, portami a casa, ti prego adesso, in questo istante, ti prego, ti prego». Ma quando aprì gli occhi, la pioggia nera stava ancora cadendo. Il vento stava aumentando di intensità, e adesso portava un gelo invernale. Lei era fradicia, le faceva male lo stomaco e le battevano i denti. Debole, si alzò a sedere. Gesù non sarebbe venuto oggi. Sarebbe dovuta morire più tardi, decise. Non serviva a nulla stare sdraiata là fuori sotto la pioggia, come una pazza. Un passo, pensò. Un passo, e quello successivo ti porta dove stai andando. Dove fosse quel dove non lo sapeva, ma da quel momento in poi avrebbe dovuto stare molto attenta, perché quella cosa malvagia senza volto e con tutti i volti avrebbe potuto essere inagguato ovunque. Ovunque. Le regole erano cambiate. La terra promessa era un ossario, e l'inferno stesso era arrivato sulla superficie della terra. Non aveva idea di cosa avesse causato una simile distruzione, ma le venne in mente una cosa terribile. E se fosse così ovunque, lasciò andare quel pensiero prima che le si imprimesse nel cervello, e si alzò a fatica. Il vento la fece vacillare. La pioggia stava cadendo così forte che non riusciva a vedere a più di un metro in ogni direzione. Decise di andare verso quello che credeva il nord, perché a Central Park avrebbe potuto essere rimasto un albero sotto cui riposare. la sua schiena si piegò contro gli elementi e iniziò con un passo.